Qua siamo ad Avellino, personalmente, anzi, la curva chiede rispetto per questa gente. Non ci interessa se sapete giocare, non sapete giocare, ci interessa che nel campo si cacciano i greglioni, dobbiamo cacciare i mani e si sceglie la maglia, e la vita se non c'è si perde, ma che dignità? Questo è il povero per il po', questo è il povero maltrattato, però questo povero qua è uscito da tante mazzate, e se lo andiamo, 1980 per un mila morti, nel 2009 per la gente scolta una fallimento, di anni fa fa uno morto, ma la gente come noi, e la gente non balla mai. La gente come noi, la gente come noi non balla mai! La gente come noi, la gente come noi, la gente come noi non balla mai!